Andolfi, complimenti, un buon primo tempo state giovando bene, 4-0 che ci sta, ottimo acquisto orientale Ivan, quel bel giocatore, cosa vi serve in questo secondo tempo per chiuderla? Niente, serve un po' che dobbiamo mandare solo il risultato, partita abbastanza tranquilla, ti importa pochissimo, dobbiamo continuare così, senza pensare di aver già vinto la partita, bocca al lupo, grazie, pastore siete partiti un po' male, cosa vi serve in questo secondo tempo per riprendermi? No ma più di questo sinceramente non possiamo fare, ci manca tutta la squadra, ci stavo niente a dire sinceramente, ragazzi, bocca al lupo comunque Buongiorno siamo qui nel post, partita abbiamo visto affrontarsi River Plate contro Virgin Soccer, la partita è finita da 5-0 per il River Plate, abbiamo qui il migliore in campo Aiese, una prestazione da parte di tutta la squadra, loro erano entrati in campo già poco convinti e penso che comunque vi siete meritati questo accesso ai quarti di finale perché comunque avete giocato abbastanza bene. Beh diciamo giusto con l'osservazione che hai fatto oggi siamo ben determinati, abbiamo giocato tutti bene, nonostante il caldo che veramente oggi si è sentito il primo caldo, a mezzogiorno non è facile giocare, diciamo che abbiamo giocato tutti bene, tre sostituzioni, ruotavamo puntanti, diciamo bella partita, ce la siamo vedati. Aiese, una dedica speciale? La dedico a tutti i miei amici che veramente ci stiamo mettendo in impegno, oggi ci mancava il nostro capitano Rocco Petrosini, la vittoria la dedichiamo anche a lui che non è potuto vedere, un bacio fratello e speriamo alla prossima. Ragazzi bocca al lupo per il quarto. Alla prossima.